Allenamento da circa 40 minuti, brucia, grassi, parte iniziale, spacca addome, cominciamo subito. L'unico modo per iniziare a fare qualcosa è smettere di parlare e iniziare a fare tozzo, stai zitto e frulla, si parte, spacca addome, sia. Ora, il primo, plank, via, fermi il plank, 30 secondi e ricordatevi, perché non si lo dovesse ricordare, i piedi, i talloni sono uniti, il gluteo non è più di ferro ma è contratto, l'addome è un ricordo, ma lo teniamo contratto anche quello, dai, 8 secondi, 5, dai bomber, 3, 2, 1, plank, sollevo gambe alternate, dai, 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 che ricominciamo a frullare quest'addome, la tartaruga tornerà fuori, dai, ma anche da voi che li prendo, stanotte metterò il più buone, 5 secondi, 3, 2, 1, t-rotation, solo t-rotation, senza push-up, solo t-rotation, scaldiamoci un po', sono 40 minutini, dai, 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 ci sei? Ora che sei in casa, mountain climbers, dai, scaldiamoci ancora un po' di più, mountain climbers, avete letto il programma di quest'anno? Una barra due dirette, due quando riesco, ma ci saranno comunque più allenamenti a settimana rispetto a prima, perché li metterò tutti sul lato, 5, 3, 2, 1, Spider-Man, cercando di stare sui gomiti, dai, 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 su, voglio vedere un super addome quest'anno, eh, voglio continuare a vedere le vostre foto da bomber, in cui vi mandate un addome di quelli importanti, dai, 5, 3, 2, 1, mezzo barbie, avanti e indietro le gambe, cominciamo subito a sbagliare, dai, 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 10 secondi, 5, 3, 2, 1, prima pausa, come un numarello, vengo a controllarvi, come state? Mi sono mancato, ero, ero emozionato ieri, di ricominciare a fare dirette, un bel momento, mentre sul lato un po' meno, però un bel momento, crunch 90, dai, gambe che formano un angolo di 90 gradi, con il ginocchio, eh, dai, e vai sul crunch, dai, 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 pompa bene, 5, 2, 1, crunch alternato, sinistra-destra, sollevo la gamba, e vado a toccarmi il domico, se la gamba un po', dai, vai, sempre un buon ritmo, eh, continua, continua, e rispondo a tutti, con una classica domanda che so che starete facendo, la salva la diretta, crancio ritorno, braccio tese, dritte, viene da destra e vado su, così, si, la salva la diretta, ho deciso di salvarle, quest'anno i live workout verranno salvati, perché gli allenamenti in esclusiva saranno quelli sull'app, ora, Russian Twister, quindi avremo degli allenamenti live, che saranno 1-2 settimane, agli impegni che quest'anno ne ho tanti, ne ho tanti, e 3 allenamenti da 30 minuti sull'app, esclusivi sull'app, e 2 allenamenti di addome, sempre sull'app, HIIT UP, quindi avrete una marea di allenamenti a settimana, dai, 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 15 secondi, HIIT UP, 10 secondi, 5, tranzionando, sulle gambe, poi la palda 2 1, palda 2 1, palda 3 4, 3 5, poi la palda 2 1, palda 3 4, scondiamo, respira ultimi 3 minuti di addome ieri ho registrato il video che uscirà sabato sul lato, non mi ricordo cavoli ragazzi faccio più fatica a parlare rispetto alla volta sono fuori forma fuori forma di brutto reverse crunch classico quindi solo sulle gambe così, dai dobbiamo fare questo percorso assieme devo tornare in forma dai anche se non ho gare in programma mi hanno annullato anche il triathlon maledizione dai 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 2 1 posizione dips reverse crunch da dips dai guarda l'arte delle ginocchiali in face dai 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 15 secondi ormai sei alla fine spacca l'addome te lo mangi con una brioche con una brioche gravita dai si risolta verticale fai bene questa forbice controlla bene salite di scelta delle gambe è lì che ti lavora l'addome il prossimo con una banda che suona si l'appoggio un secondo tamburello dai 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 tieni l'addome dai che il tamburello è costo ci sei quasi 12 secondi 8 5 2 2 1 appoggio un secondo apro chiudo dai apri e chiudi le gambe sempre la posizione del tamburello le apri e chiudi è tipo un tamburello dinamico dai 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 8 5 2 1 appoggio un attimo posizione frog frog crunch hop dai che è l'ultimo poi partiamo col circutore centrale che è un po' mortale è un brucia grassi adesso ve lo spiego 2 1 bang spaccadone termine allora circuitone sono 22 minuti di lavoro qual è la cosa? sono divisi 4 circuiti 4 circuiti in stile 40-20 4 circuiti da 5 minuti non c'è riposo all'interno di ogni circuito c'è riposo alla fine del circuito ogni circuito è di 5 minuti in cui 5 minuti dai tutto muori 45 secondi di palla quindi cominciamo subito il primo skip 40 secondi di skip via non hai pause per 5 minuti 5 minuti di lavoro dai 40-20 1 esercizio da 40 secondi 1 da 20 se non ce la fai quando io faccio i 20 secondi di esercizio fai la pausa in quei 20 dai 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 ancora 10 secondi ancora 10 secondi ovviamente il ritmo è un po' più blando 2 1 squat piano piano questo è quasi quello per recuperare squat dai su e giù bene 3 2 1 adesso skip laterale destro jumping jack dinamico per tornare a sinistra skip laterale destro jumping jack dinamico per tornare a sinistra dai 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 chi ci sei 5 secondi adesso a fondo anteriore alternato è fattibile è fatto apposto 40 a 20 così più andiamo avanti più diventa complesso però all'inizio è fattibile adesso skip laterale sinistro e jumping jack per tornare indietro skip laterale sinistro e jumping jack per tornare indietro hop 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 dai skip laterale sinistro jumping jack hop va un pochino sul cuore un pochino dai dai nei venti rimandiamo giù il cuore plank pensate fermi in posizione di plank 20 secondi in plank dai 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 2 1 cambio jump avanti jump indietro jump avanti jump indietro jump avanti mi giro mi giro vuoi farmi là hop jambo avanti e indietro hop 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 dai dai nei venti secondi dopo il push up push up ricordo che si può fare anche con le ginocchia a terra eh via push up se volete ginocchia a terra 5 secondi 5 secondi skater jump walk skater classico invata quando siete stanti hop dai 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 che sei quasi alla fine dei primi 5 minuti è l'ultimo 40-20 questo eh dopo ti prepari e vai in superman mantenimento fermo in superman dopo subito in superman hold così fermo in superman come va il cuore? pausa 45 secondi sono 4 circuiti così uno l'hai già fatto? sei a posto aumenta un po' il livello eh ogni circuito per cui vale la solita regola se non riesci nei 20 secondi un po' di pausa no problemi quando io faccio i 20 secondi voi fate la pausa se ce la fate frullate se ce la fate frullate stiamo per partire il primo è il flio climbers via flio climbers gambe cioè i piedi che va vicino alla mano dai 40 secondi è questo oh dai su 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 il prossimo jump squat 10 secondi ancora poi jump squat 3 2 1 jump squat ritmo blando eh non voler strafare ritmo blando dai 5 secondi ancora 2 1 cross mountain climb anche qua il ritmo non esagerare ti ricordo 5 minuti di lavoro eh oh dai dai 40 secondi quello dopo è quello da lenti per cui se sei aperti è il momento di fare la pausa se no a fondo posteriore alternato assieme a me 2 1 fora a fondo posteriore alternato oh dai dai se sei in pausa respira bene il prossimo mountain climb 2 plank jack 2 mountain climb 2 plank jack 2 stop dai dai 2 mountain climb 2 plank jack vai a canna vai a canna che nei prossimi 20 secondi un po' ritiati perchè abbiamo il plank dinamico dai 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 ora plank dinamico quello dopo è tosto per cui prepararti anche psicologicamente non è barbis non è donkey è break dancer ora break dancer vai eh questo 40 secondi il ritmo però lo decidi come al solito tu per cui alla fine ci arrivi dai bomber 10 secondi 10 secondi 8 5 3 2 1 push up se vuoi se vuoi sulla ginocchia dai 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 manca poco dai che ci sei 3 2 1 i rotation senza push up solo i rotation rimandiamo un pochino giù il cuore quindi abbiamo chiesto tanto dai questo è l'ultimo da 40 poi abbiamo l'ultimo da 20 e poi la pausa in duro tieni duro duro dai 10 secondi l'ultimo superman mai presattato dinamico cosa devo dire dinamico ti muovo le braccia avanti e indietro dai avanti in 3 dai 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 3 secondi 2 1 spalva 2 su 4 portati a termine dai comandiamo stiamo bene si fa bevo i miei soliti energiamino ecco mi vado a tuono e si parte e si parte inch warm ovvero verme più blast off via verme blast off e salto via verme blast off e salto dai 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 verme il blast off e salto e salto tutto in maniera dinamica hopla 10 secondi fuori mi prepari mi prepari uno squat jump pulsato ora torno a dire pulso e jump pulso e jump dai pulso e jump dai 3 2 1 adesso squat in squat out al fondo incrociato squat in squat out al fondo incrociato hop dai dai hop squat in squat out al fondo incrociato cominciano a bruciare le gambe un pochino hop dai dai 20 secondi al fondo laterale dinamico questo è quello che se sei stanco fai la palla se no lo fai con me a fondo laterale dinamico vuol dire destra sinistra dai dai bomber adesso 2 shoulder tuck mezzo barbis 2 shoulder tuck mezzo barbis dai 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 che ci sei due shoulder un mezzo barbis su di un po' dai che stai bruciando grassi tutti quelli che ti sei maniato quest'estate lo spaghettino la peperonata la peperonata gli spranti una caponatina una granitina vuoi mettere un cagnolo? vuoi una brioche con la granita? vada pure e poi il brucio ora doppia coordinazione più donkey doppia coordinazione più donkey dai hop doppia coordinazione e donkey dai 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 questo è tosto la tua spalle dai hop doppia coordinazione più donkey dai 5 secondi push up se vuoi con le ginocchia a terra dai dai chi sei stanca lo so tu stanza anch'io dai 5 secondi push up burpies dai vai di burpies 40 secondi è l'ultimo da 40 presto dai 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 qui ci siamo questo è il terzo circuito da 5 minuti ne abbiamo 4 dai ma siamo alla fine del terzo 3 2 1 tappetino tappetino si nuota con le gambe platter kick dai dai che il cuore ballo su dai che il cuore ballo su dai che ci sei oh spalda 45 secondi come andiamo stossa penino dai ancora 5 minuti di questo circuitone vediamo il circuito finale adesso 40 secondi commando più plank jack via commando con entrambe le braccia plank jack 2 commando con entrambe le braccia e 2 plank jack dai oh dai 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 lì non mollare 15 secondi ancora il tempo ora quando siamo in diretta dai dai che ci sei il prossimo sumo jump squat ora gambe a sumo sumo jump squat dai hop 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 dai 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 5 2 1 adesso grandio palo giù knee to squat to jump grandio knee to squat to jump e di nuovo grandio hop 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 la dai 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 sempre così due passi a grandio 3 in base a quanto spazio hai ginocchio knee to squat to jump dai 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 runner lunge con jump se riesci se no fai la palla vai dai chi ci sei manca poco 5 secondi 5 secondi hop adesso corsa laterale tocco piede corsa laterale tocco piede hop 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 dai 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 che ci siamo siamo quasi alla fine del circuitone centrale che alla fine con le pause che erano 22 minuti hop hop dai 3 secondi poi poi plant dinamico via plant dinamico via plant dinamico dai 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 per 20 secondi questo dai ci siamo ora jumping jack modificato vuol dire che incrocio le gambe e apro più le braccia dai 40 secondi di questo eh dai hop 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 dai 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 sempre sulle ginocchia se vuoi come vuoi bene up to you 5 secondi 5 secondi 5 secondi lateral barbis ora eh barbis di qua salto laterale barbis di là oh salto laterale barbis di qua salto laterale barbis di là dai dai barbis di là dai 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 ci siamo forza 10 secondi 3 2 1 superman push up ovvero braccia avanti braccia indietro mi sollevo braccia avanti braccia indietro e mi sollevo movimenti circolari movimenti circolari le braccia e mi sollevo dai bombe è fatto abbiamo fatto il circuitone 40 regi adesso tabattino finale ogni esercizio lo ripetiamo due volte ci siamo dai 9 minuti babberos bang 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 tum in parte il primo drop squat ci siamo via drop squat hop apro apro il top il top il top il top dai 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 che è martin di mattina ma siamo già carichi come delle molle dai ah sono a stomaco vuoto eh per chi lo chiedesse alle 7 di mattina si viene a stomaco vuoto come dice il dottor lungo dai via di nuovo drop squat 10 secondi 10 secondi 5 3 2 1 pausa down in mood non ve lo messo prima mi agi karate kid do la cera tolgo la cera tolgo la cera tolgo la cera ora che sei caldo lo puoi fare prima no dai do la cera tolgo la cera 2 2 1 pausa lo ripeti eh ebbene si lo ripeti 3 2 1 via do la cera tolgo la cera dai bombello dai 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 5 dai che dura pausa posizione bips vai bips per 20 secondi via bips e qua di sempre uno gambe uno addome e uno braccio dai qua di sempre sono 3 3 e 3 paula pronta a ripare i bips via bips vai dai 16 hop hop stai lì stai lì 10 secondi 5 3 2 1 pausa in piedi in piedi squat 90 e mi vai tutti i lati hop 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 e torni indietro dai 4 90 dai dai manca 10 secondi tieni duro tieni duro hop 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 spalga lo ripeti ovviamente 6 dai hop 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 e hop dai dai che non può che non facevo un circuito da 40 minuti così in più dovendoli fare consumare dai mi ha fatto tosto io nico pace nico pace nico pace non so se avete visto ma nico pace lo schiolando sulla sua pagina sta facendo dei grandi contenuti sulla core stability su diciamo tutte le varie contenute sui spiolando sono molto interessanti capisce a guardare pausa di nuovo cross mountain climber 2 1 via cross mountain climber dai 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 10 secondi ancora dai che ci siamo pausa siamo più avanti di metà dai push up via push up 20 secondi dai 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 ancora 10 se vuoi sulle ginocchia non ti preoccupare 4 1 pausa lo ripeti lo ripeti come un vero bomber lo ripeti lo ripeti via dai 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 manca 10 secondi dai bombe dai chi ci sei pausa ora spot esplosivo è quello in cui ti tocchi i talloni fine jump è un jump squat non tocco dei talloni tocco dei piedi dai 10 secondi dai 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 mancano gli ultimi 3 minuti dai che ce la puoi fare pausa repeat 5 secondi si parte via go non mollare eh vai avanti la gamba un po' brucia è l'ultimo per le gambe dai 5 secondi 3 pausa tappetino tamburello via tamburello per lì eh con solo 20 secondi questo giro dai 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 non mollare ne manca 5 pausa lo ripeti via via tamburello dai tambura dai che ci siamo come on come on siamo a canna 5 secondi ancora via 2 1 pausa ultimo esercizio vi ripeto una volta blast off push up via blast off dai faccio questo doccia colazione e lavoro anche se sei smart working va bene lo stesso tanto devi lavorare comunque pausa ultimo blast off push up dai bomber si parte via dai 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 e bomber 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 dai che è l'ultimo dai tutto dai tutto dai tutto metti i secondi dai tutto 3 2 1 pausa fine dai e bomber dai e a